Per il nostro sistema ci sei vero, pare di essersi fatti all'interno di una bolla tra due dimensioni, qualcosa che rimane sospeso in ciò che esiste, in ciò che invece non è tutto dell'impaninazione. Una notte veramente fantastica. Adoro essere all'interno di questo tempo, testimoni di un momento che pare eterno. Adoro questo silenzio che detta le regole e controlla il futuro. Adoro il silenzio di consiglio di un'altra, solamente a rumore monotono della pioggia, aspettato dal bagliore improvviso dei nanti e dal buato del cuore. Un nuovo lanto, più intenso dei precedenti. Subito il muore. Più forte e cattivo. Molto più di tutti gli altri che lo hanno preceduto. Più di un secondo. Mi è balso di averlo visto. Sempre lui. Sempre nello stesso identico, non ho detto bene. Minaccioso e silenzioso. Più di tutto quello che c'è al di fuori dell'automobile. Ma no. È solamente una leggenda. Di serie e suggestioni. Capita più spesso di quanto si pensi. Però non è la prima volta. Così come non è la seconda. E nemmeno pure la terza. Ecco. Ancora sì. L'ho visto bene questa volta. Bene per quanto si possa vedere bene, io come lui. L'ho visto anche se ora non c'è più. L'ombrano in buio. Il passeggero nello specchietto. Controlla il panico che sta arrivando. Non fatti pregare ancora. Va tutto bene, ok? Certo. Va tutto bene. Almeno fino al prossimo lato. Persegno ricresso del mio volto che mi guarda dall'alto del finestrino a mio fianco. Se non farmi capire che non ho speranza. Continuo. Sempre sederato. Troppo rischioso. Con l'asfalto così viscino. Fabrizio Peltano. Grazie. Grazie. E nemmeno di malattia.